Dopo la raffica di furti, tentati o riusciti che nelle ultime due settimane hanno registrato più di 20 colpi in ville e appartamenti compresi fra Colombarone, Casebaglioli e Gradara, i carabinieri di Pesaro e Gabicce Mare hanno aumentato i servizi di perlustrazione nella zona scongiurando due tentati furti nel giro di due giorni. Nel primo caso una pattuglia di Gabicce perlustrando le vie di Casebaglioli si accorta del tentativo da parte di due malviventi di scassinare una porta a finestra. I due ladri sono però riusciti ad evitare la cattura scappando a piedi nel buio dell'aperta campagna. E' andata invece peggio un 24enne albanese che ieri è finito in manette dopo un tentato furto a Colombarone. Il giovane in questione assieme ad un complice ha provato ad introdursi in un appartamento ma la proprietaria se ne accorta allertando subito i carabinieri che erano già presenti a pattugliare la zona. Sono riusciti ad individuare i due presunti ladri e ne è scatturito un lungo inseguimento a piedi durante il quale i malviventi sono introdotti anche in altre abitazioni scavalcate mando cancelli di recinzione. Uno è riuscito a sfuggire ai militari, l'altro, il 24enne, è stato invece bloccato e colto in possesso di strumenti utili all'effrazione. E' scattata la perquisizione domiciliare in cui è stato possibile rinvenire circa 2000 euro in contanti, banconotestere, numerose paia di occhiali di marca, penne, orologi e numerosi monili in oro fra catenine, bracciali, anelli e orecchini oltre a un grosso televisore Samsung. Il Tribunale di Pesaro ha disposto oggi l'arresto con reclusione al carcere di Villa Fastigi in attesa dell'udienza di convalida. Sono tuttora in corso da parte dei carabinieri le operazioni di identificazione dei proprietari di tutto il materiale rinvenuto e posto sotto sequestro. I cittadini che avessero subito un furto di oggetti possono verificarne la loro appartenenza alla stazione dei carabinieri di Gabicemare.